Capitolo secondo, molto meno felice del precedente, delle avventure di Johnny Five, il super robot dalla memoria e dall'intelligenza galattiche. Ha trovato pare il giusto impiego in un laboratorio che costruisce giocattoli ad alto livello tecnologico. Ma un losco individuo cerca di rapire Johnny Five per usarlo per i suoi scopi.